Lette abusive, abusi sessuali abusivi Buongiorno Presidente, oggi puoi ricordare la tarda? Oggi è 16 agosto Presidente Presidente, com'è trascorso il Ferragosto la giornata di ieri? Il Ferragosto l'ho trascorso tranquillamente a casa Tutto bene Riposato Comunque sono stati sulle zone balneari, ieri era nuvoloso, poi c'era tanto vento sulle spiagge Anche il lito dove tu mi hai consigliato di andare Era nuvoloso, c'era tanta sabbia che si alzava dalla battiglia Infatti tirava vento e per questo ho preferito trasformare la battaglia Della 4 di bastone Come dice il nostro amico Puoi ricordare il nostro amico Taricone dove sarò in questo momento? E il mio amico Taricone ieri si era appesa la dave, non so dove doveva andare Partito in bastimento Partito in bastimento Partito in bastimento Ciao Taricone, da parte di Sino, il Presidente ti saluti Saluti Ti vogliamo bene Ti vogliamo bene, divertiti Mi raccomando, tratta bene a Monica Saluti Monica da Giuseppe Vabbè, Presidente, oggi un allenamento... Dove arriveri io? Oggi facciamo un allenamento tranquillo Tranquillo Se i ragazzi consentono possiamo fare anche un giretto più lungo Però tranquillamente Se si corre facciamo questa fortuna ridotta Se si dà un allenamento possiamo fare la vostra banda però non parla Sì, sì, sì Aspetta, non si sente, Presidente Siamo quasi nei macchini Non parla Cosa vogliamo fare? La campanella c'è un po' Io volessi fare la campanella e la bollella però senti tutti i mappi poi mi arriva a passare la campanella la campanella per i piccoli e allora vado a passare il bottino la campanella è tirata e tirammo la campanella fa la soffa d'ora Vado qualche minuto e deve arrivare ancora qualche altra componente un po' buonissimo Pasqualino Pasqualino a ieri c'è il presidente la catena la catena esatta proprio presidente fai oggi saranno solo riprese statiche da fermi presidente salutalo saluto a tutti a casa a tutti gli amici vicini e lontani a tutti i nostri amici ascoltatori sulla strada parliamo fate bene vi aspeciamo ciao ragazzi dai è una partita di nuovo no 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 raffaele sei un grande veramente ti voglio bene raffaele sei grande che succo tutti la salò non ci sono una parte di piccola ho con l'attra c'è la prima la sim non ci sì la sicurezza ma che parla c'è c'è il mio c'è l'attra che va oggi mi abasco con la si discuta del percorso che dobbiamo fare chi dice colonnello che dice monte di prostita chi dice voglia di amare chi dice voglia di coppoli e chi dice che all'estate è una felicità cammino vai a cana dove vai a là a butullare ma gli altri che hanno fatto